Scendono in piazza e protestano i dipendenti della Pomezia Servizi davanti alla sede comunale. Motivo scatenante del sit-in è il mancato pagamento dello stipendio di ottobre che sarebbe dovuto avvenire entro il giorno 27 dello stesso mese. Un futuro incerto dunque è quello dei dipendenti, che non solo svolgono servizi inerenti alla persona, come l'assistenza domiciliare agli anziani, ai minori, quella scolastica ai bambini disagiati o disabili, ma anche una serie di prestazioni essenziali alle farmacie comunali. Questa incertezza avviene sia da un cambiamento legislativo, si mette in discussione la possibilità per il comune di Pomezia di tenere in piedi un'azienda quale la Pomezia Servizi con l'attuale ragione sociale, cioè una società per azioni. I dipendenti in giornata hanno incontrato anche l'assessore alle finanze Antonio Maniscalco, che assicura di aver già risolto il problema degli stipendi arretrati. Diciamo che, come abbiamo già riferito alle rappresentanze sindacali, la situazione è stata pressoché risolta per ciò che riguarda il pagamento degli stipendi, che avevamo già fatto i mandati per la Pomezia Servizi e la Pomezia Servizi di conseguenza poi ha erogato l'altra parte della tranche di stipendio che spetta giustamente ai lavoratori. È stato fissato un altro incontro con i rappresentanti sindacali per martedì 13 novembre alle ore 15.30, in occasione di un convegno organizzato dalla CGL presso il comune di Albano, al quale parteciperanno i sindaci del territorio proprio sulla nuova normativa che prevede il cambiamento delle società in house come la Pomezia Servizi. Noi intanto speriamo che correttamente il sindaco abbia qualche notizia in più da darci.